ci occupiamo di musica rap e hip hop in questa edizione di radio pirata la radio nella radio parlandovi di una stazione radio molto importante in questo senso perché la kday 1580 am è stata la radio di los angeles che possiamo annoverare tra le prime radio se non la prima addirittura a trasmettere musica hip hop il disc jockey della radio steve woods suonò infatti per primo rappers delight della sugar hill gang nella sua uscita del 1979 i dirigenti radiofonici e i direttori del programma di los angeles odiavano l'hip hop pensavano che fosse infatti solo una moda musicale passeggera ma l'hip hop continuava invece a crescere alla fine degli anni 80 dopo che greg mcmillian meglio conosciuto come greg mack fu assunto come direttore musicale della stazione l'hip hop e il rap divenne davvero dominante su questa radio nessun'altra stazione radio all'epoca poteva competere con questa radio poiché la stazione suonava rap 24 ore al giorno insieme ad un perfetto mix di r&b che portò la stazione ad essere la prima radio hip hop dr dj yellow boy sono stati i primi dj al mixer di questa stazione diventata poi 93.5 kday fm e ha contribuito a rafforzare la carriera ad esempio anche degli nya da gruppo sconosciuto ad un gruppo hip hop tra i più conosciuti e sicuramente al riferimento di sempre la stessa radio ha contribuito a lanciare le carriere di moltissimi artisti mainstream come dr drey ice cube ice tea l'alcool j jay z e queen latifa che idea ha iniziato la sua storia nel 1948 come radio soul r&b con un trasmettitore da 10.000 watt sui 1580 am il suo nominativo rappresentava il fatto che si trattava però al tempo di un day timer cioè una radio che trasmetteva solamente durante le ore di urne dopo il suo licenziamento dalla wabc nel novembre del 1959 il famoso disc jockey alan freed arrivò alla kday e lavorò per circa un anno a quel tempo la stazione aveva già un trasmettitore da 50.000 watt ed era in onda solo ancora durante il giorno nel 1972 la radio cambiò stile puntando sul rock per tornare al soul r&b nel gennaio del 74 la radio trasferì il suo trasmettitore a los angeles nel 68 e contemporaneamente portarono la potenza di trasmissione a 50.000 watt di giorno e di notte le stazioni fm come kj lh cresciute in popolarità nei primi anni 80 iniziavano a portare via il pubblico di k day e a quel punto assumendo greg mack dalla km j q di houston come direttore musicale nell'83 le cose veramente cambiarono mack alla fine aggiunse ancora musica hip hop alla playlist della stazione per attirare principalmente giovani ascoltatori neri e latini nel primo periodo sotto la guida di mac gli ascolti di k day hanno superato di gran lunga un'altra stazione black di los angeles la kj fj e hanno iniziato a godere di una seconda vita come l'unica stazione rap friendly in città e praticamente in tutto il paese nel settembre del 1983 k day ha aggiunto anche il nuovo suono alla sua am con il famoso stereo am il sequam che da noi vabbè non ha mai avuto così tanto successo ma è uno dei sistemi di trasmissione in stereo del delle onde medie della modulazione di ampiezza che è veramente interessante dopo un episodio di violenza sugli spalti che costrinse la cancellazione di un concerto dei randiam si tornando alla storia di questa radio concerto che si tenne alla long beach arena per il tour del gruppo k day organizzò un day of peace esattamente il 9 ottobre 1986 in uno speciale di due ore la radio ha presentato i ram dan si il cantante barry white il pugile paul gonzalez che invitavano le bande rivali a smettere di litigare e aprirono le linee telefoniche agli ascoltatori per descrivere l'impatto delle bande nelle loro comunità non ci sono stati omicidi o episodi di violenza tra le bande quel giorno nel giro di due settimane i blots e i creeps le due bande rivali di los angeles firmarono addirittura un trattato di pace la radio esiste ancora ha il suo sito www.935kday.com il player però non funziona per l'italia e se volete ascoltare qualcosa ma che a partire al passato di questa radio su youtube trovate delle vere e proprie cassette riversate appunto in digitale e continuiamo il nostro tragitto il nostro percorso attraverso la strada delle radio hip hop e rap parlandovi di kpwr 105.9 ma molto più famosa come power 106 è una stazione radio commerciale di los angeles california che trasmette nell'area del greeter los angeles kpwr è di proprietà ed è gestita da meruelo group gli studi della radio hanno sede nel soborgo di barbank a los angeles e il trasmettitore invece è sul monte wilson meruelo ha acquistato la radio da emmys communication per 82 milioni nel maggio 2017 portando ufficialmente la stazione sotto la proprietà comune con kday eccola lì ne abbiamo parlato prima kday fm e kw hy tv dal primo agosto appunto del 2017 è una radio semplicemente fantastica per gli appassionati per gli amanti del genere io ho avuto la fortuna di ascoltarla live in loco intorno al 1995 quindi torniamo indietro di tanti anni ma mi ha impressionato lo stile la potenza e la grinta con cui questa radio trasmette 24 ore su 24 praticamente un filo continuo di pop rap e anche le presentazioni in stile veramente non lasciano un minuto di pausa veramente davvero molto bravi dal 1946 e qui torniamo un po alla sua storia fino al 1951 105.9 a los angeles furono occupati da kfi fm nel 1955 planet music fece domanda per un permesso per una nuova stazione su quella frequenza che si era nel frattempo liberata e fu kbms better music station prima di adottare il nominativo di kw st durante gli anni con entrambi i nominativi il formato della radio il formato musicale era indirizzato esclusivamente o quasi al rock progressivo fino al primo gennaio del 75 k west emulò il suono allora popolare di km 80 e k l os nel 1981 però gli ascolti erano scivolati e così kw st cambiò nel formato top alla fine si trasformò in kmgg magic 106 suonando musica contemporanea a partire dalla metà del 1982 tanta strada è stata fatta ad arrivare al 1986 esattamente l'11 gennaio alle 18 in punto kmgg abbandonò il suo formato contemporaneo per adulti e divenne la prima stazione radio r&b con il nuovo nominativo kp wr e ovviamente il marchio power 106 la prima canzone del nuovo battesimo di power 106 fu say i'm your number one di princess al momento del lancio di kp wr ha trasmesso con una potenza irradiata effettiva di 72 kilowatt che consentiva al suo segnale di essere ascoltato nelle contee di san diego kern e santa barbara questa incredibile potenza però nel tempo fu abbassata e ridotta a 25 kilowatt nel 1993 nel settembre 2011 power 106 è stata nominata stazione dell'anno e premiata anche con il marconi award alla convention della national association of broadcaster a chicago ed è stata nominata nel 2012 come major market station of the year dal nab www.power106.com è il sito anche in questo caso la radio però purtroppo non sembra essere autorizzata per la nostra zona almeno qui per l'italia va detto che insomma ci sono dei trucchetti su internet per aggirare questi ostacoli vpn robe del genere robe insomma da smanettoni però intanto se volete ascoltarvi qualcosa innanzitutto c'è la pagina su facebook che tiene aggiornato in continuazione gli ascoltatori su tutti i programmi che producono e comunque qualche spezzone si riesce a sentire oppure c'è un canale su youtube dove più che la programmazione della radio è presente una quantità incredibile di ospitate davvero da vedere da sentire da ascoltare una dopo l'altra e girondolando per il web continuiamo invece questo cammino tra le radio e in questo caso web radio che propongono diffondono e fanno conoscere la musica hip hop rap funk questa volta vi parlo di we funk stazione che ho trovato praticamente per caso dj stati che professor groove hanno iniziato questa avventura trasmettendo we funk a montreal nel 96 lo studio e le frequenze della ckut della mcgill university sono stati la casa appunto di questo programma we funk per almeno 20 anni di trasmissione dopo circa 18 mesi di sessioni a tarda notte lo show si è stabilito il venerdì sera da mezzanotte alle 2 del mattino nel gennaio del 98 all'inizio del 1999 hanno iniziato a trasmettere e archiviare i programmi online e il mondo ha avuto il suo assaggio del suono we funk dal 2001 hanno fatto del loro meglio cercando nuovi groove registrando centinaia di altri spettacoli settimanali e costruendo il sito web su montreal sta ancora trasmettendo we funk ogni venerdì sera su ckut ma soprattutto si può ascoltare 24 ore su 24 7 giorni su 7 e qui senza problemi da we funk radio.com we funk celebra un po il linguaggio della musica potente e ispirata le radici del soul del funk e del rap risalgono molto più lontano degli anni 70 ma qualcosa di speciale dicono è nato già da james brown e i musicisti di tutto il mondo che hanno provato quel suono quel funk quella musica che ha dato una solida base per parlare di problemi sociali relazioni politica e condizioni di vita il funk infatti ha dato vita all'hip hop mentre il passato cresceva nel presente il funk e all'hip hop hanno toccato ogni suono moderno lasciando il segno we funk con i nuovi episodi poche settimane prima che raggiungano l'archivio web va in onda lo ricordo su 90.3 a montreal canada ogni venerdì sera tra mezzanotte le due del mattino in est l'eastern standard time per riascoltare il buon groove comunque ogni volta che volete vi ricordo ancora l'indirizzo che è we funk radio.com ecco se cercate comunque di web radio tematiche nel mondo hip hop e rap ce ne sono veramente un sacco io così mi sono soffermato su questa ma nei vari player e aggregatori se ne trovano veramente centinaia 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 l'imbarazzo della scelta la voglia insomma di scoprire qualcosa che vi può piacere se vi piace il genere chiaramente e poi insomma semplicemente ci cliccate sopra e dopo il giro intorno al mondo è il momento di tornare un attimo con i piedi qui in italia per parlarvi di radio milano international e il tempo il suo tempo di rebranding lo rende noto l'emittente tramite un comunicato che è stato pubblicato anche da fm-world.it quindi nuovi loghi per radio milano international dal 2017 grazie a un continuo lavoro di rinnovamento radio milano international porta infatti avanti la sua nuova era la radio si rivolge al pubblico della rete a quello dell'fm con la presenza serale su milano resa possibile da adn italia di questo ne abbiamo già parlato nelle passate puntate tutti gli sforzi spiega pier francesco borra amministratore della società cui fa capo radio milano international sono indirizzati ad arricchire i canali streaming veicolare contenuti sulle piattaforme on demand e consolidare partnership con player di rilievo in grado quindi di apprezzare il valore aggiunto della radio per questi motivi annunciato borra è arrivato anche il momento di aggiornare il logo conferendogli una nuova identità visiva consapevoli dice del valore storico del nostro marchio prima di procedere è stata raccolta la testimonianza del suo ideatore il famoso grafico e designer manfredi vinassa de regni nome che comunque qualche appassionato di radio ascolto collegherà anche a qualche bel libro sulla radio nel 75 de regni era appena tornato a milano dopo un'esperienza nell'agenzia pubblicitaria jw thompson di new york incuriosito dai primissimi vagiti di quella radio pirata che trasmetteva musica senza fine a pochi isolati da casa sua si recò presso gli studi dopo aver scoperto il nome della radio si propose subito di aggiungere il claim non stop music con una successiva rapida associazione di idee accostò la frase all'immagine del segnale stradale di stop americano non ancora in uso in italia gli otto lati e il colore rosso attiravano la massima attenzione il lettering bianco spiccava imperativo il messaggio era forte e chiaro attenzione su radio milano international la musica non si ferma mai in questo modo nacque un marchio che diventò subito brand e fu da incitamento per molte altre radio nascenti va ricordato che appunto al tempo c'erano parecchi loghi parecchie immagini che insomma si rifacevano moltissimo a quello storico di rmi partendo da questi elementi fortemente identificativi spiega pierfrancesco borra in questo comunicato si è ragionato sul messaggio da lanciare con il nuovo logo realizzato dal graphic designer italiano nicolò accoto l'ottagono aperto significa che radio milano international non dimentica la sua storia e che si apre con fiducia al futuro il tratto rosso è il riferimento al passato mentre il nero e il bianco rappresentano l'amore per il groove elegante e sensuale della black music la sintesi della nuova identità visiva è stesso spirito nuova visione sguardo più vicino al nuovo domani radio milano international dunque si evolve adatta il suo suono e concretizza la sua identità visiva con radici salde nella storia la programmazione di radio milano international vede oggi protagonisti davide bucci master freeze fabio negri che saluto calorosamente che seguo spesso anche sul mix cloud chris anderson irene lamedica stefano lucarelli steve dub lucia schillaci bruno boll paolo bardelli e dario piana altre novità saranno comunque presto aggiornate quindi un nuovo restyling per i marchi storici di radio milano international soprattutto il canale rmi e il canale new vibes mentre per quanto riguarda il canale classic il marchio ovviamente rimane quello storico